Panino a chilometro zero, Campagna Amica sceglie le scuole, ha scelto il Misticoni di Pescara per questa iniziativa, siamo con la professoressa Luisa Maggiore per presentare questa iniziativa, oggi è una bella giornata con questi ragazzi in fila a prendere questi Panini a chilometro zero. Sì, è una giornata che dà praticamente un segnale concreto di un'iniziativa che prende la nostra scuola, che ha voluto incontrare Campagna Amica per proporre un'iniziativa ai ragazzi, un'iniziativa culturale, di tipo culturale che passa attraverso l'alimentazione, perché l'alimentazione rappresenta oggi soprattutto cultura. Con cultura intendevo proprio questo, cioè il fatto di sapere cosa si mangia, l'origine dell'alimentazione, l'alimentazione a chilometro zero che ci porta a conoscere i luoghi, le provenienze del cibo che consumiamo che arriva sulle nostre tavole. Questi ragazzi avevano perso la capacità di conoscere ciò e noi vogliamo aiutarli a ritrovare le loro origini e la loro cultura appunto. Chiudiamo un attimo questo Panino a chilometro zero perché è fatto da determinati ingredienti e prodotti. Sì, abbiamo questi Panini a chilometro zero, cosa vuol dire? Intanto partiamo dalle farine, sono farine particolari autoctone della zona, quindi farina solina per esempio, farine integrali con un basso indice glicemico, prosciutto che viene sempre dalla nostra zona, insalate, formaggi come ricotte, formaggi che i nostri ragazzi non conoscono più perché oramai sono abituati a prodotti preconfezionati. Quindi come bibite alternare alle bibite gassate del buon latte, dell'acqua. Quindi ecco, rieducare i nostri ragazzi attraverso un'alimentazione che apparteneva ai nostri genitori, ai nostri nonni e che nel volgere di pochi lustri insomma è stata dimenticata e rimossa.